Passione Cilento, cibo, incontri, emozioni. Dovranno racchiudere tutto questo i lavori che saranno candidati alla quinta edizione del concorso Foto e Corti dal Cilento, una competizione pensata dalla Fondazione Pietro De Luca di Torrorsai a cinque anni fa per far raccontare il territorio cilentano attraverso le immagini. Quest'anno, spiega Maria Giacoma Gagliardo, vicepresidente della Fondazione, chiediamo di parlarci della storia e della cultura locale attraverso incontri emozionanti tra persone o cose, ma soprattutto con il cibo, vera espressione di cultura e tradizioni, strumento di convivialità e ponte insostituibile tra le generazioni. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a professionisti e amatori senza limiti d'età. Ogni partecipante potrà concorrere per diverse categorie. Nel bando sono indicati tutti i dettagli relativi alle caratteristiche tecniche della foto, dei corti e dei smart video che saranno candidati. In palio per i primi classificati ci sono premi in denaro che variano secondo la categoria a cui appartiene l'opera vincitrice, 1.500, 1.000 e 500 euro. Anche la quinta edizione del concorso terminerà con una serata dedicata al ricordo e all'amore verso il cilento, durante la quale verranno premiati i lavori scelti dalla giuria. Già fissata la data per la serata di gala, 15 giugno, presso il Cineteatro di Policastro Bussentino. Gli elaborati devono essere presentati entro il prossimo 5 giugno. Il bando è disponibile sul sito www.fondazionepietrodeluca.it. Una fondazione è nata a Torre Orsaia nel 2013 per volontà dei coniugi Vincenzo De Luca e Maria Giacoma Gagliardo, in memoria del figlio Pietro, scomparso in giovane età. Il concorso è una delle iniziative messe in campo dalla fondazione per mantenere vivo il suo ricordo attraverso la promozione e la valorizzazione delle risorse umane, professionali e culturali del cilento.